ciao a tutti questo è dopo gp sondaggi ciao zam ciao nico ciao a tutti e allora voi continuate a votare siete in tanti quindi continuate su questa linea questa volta parliamo di moto non di piloti non di gare di moto qual è stata la migliore moto del 2019 e allora naturalmente partiamo da quella che ha vinto stravinto ha vinto il mondiale col pilota marquez ha vinto il campionato costruttori col pilota marquez ha vinto la classifica per team col pilota marquez allora è chiaro che marquez è l'ingrediente principale di questo successo però la onda la onda che stravince e che anche un grande motore quest'anno ecco io credo dico che questo sia il sondaggio più difficile almeno per quanto mi riguarda perché le prestazioni della onda sono troppo condizionate dal fenomeno marquez come hai sottolineato tu da solo ha vinto tutto quindi qual è il valore della onda quello di marquez o quello degli altri piloti che hanno fatto hanno deluso molto anche se craccio ha conquistato dei podi io sono uno di quelli condizionato dal nostro ingegnerone giulio bernardelle che dice la onda è stata bravissima perché ha secondato marquez in tutte le sue richieste esaltando le sue caratteristiche ed è un dato di fatto che quest'anno aveva un gran motore perché si è visto in tantissime occasioni a livello se non addirittura migliore di quella della ducati quindi per me la onda è una moto competitiva assolutamente poi si può discutere del fatto che sia corretto non corretto giusto non giusto proficuo o no fare una moto solo per un pilota come c'è suo tempo la ducati con storia ma lì se la trovo si lavora per saver però comunque noi ci fidiamo al vostro voto perché giustamente come dici tu zam è molto difficile decidere e quindi deciderete voi yamaha fa ridere pensare che yamaha possa essere considerata la migliore moto del 2019 fa ridere lo dico con rispetto perché in realtà le ha sempre prese però e soprattutto era troppo lente in rettilineo troppo lenti in accelerazione però è comunque la seconda classificata nella classifica costruttori yamaha davanti ai ducati per tre punti dunque per molti potrebbe essere la moto migliore dell'anno anche perché con quarta raro vignales in qualifica fatto vedere cose strepitose anche con morbidelli ecco io credo che se un pilota potesse scegliere una moto per fare la qualifica il giro secco forse prenderebbe la yamaha cioè tutti i piloti prenderebbero la yamaha perché è una moto di grande qualità sotto quell'aspetto in gara purtroppo mostra dei limiti e quindi l'abbiamo visto anche tante volte all'inizio sembrava anche un limite quello di quarta raro di stare sempre in testa ma invece i piloti yamaha sono costretti a fare questo devono stare davanti altrimenti perdono troppo in rettilineo e quindi questo è un limite grosso della moto è certo certo invece la suzuki allora prima della ducati parliamo di suzuki perché all'inizio dell'anno addirittura l'inge diceva vedete è stata ha superato la ma in effetti le prestazioni erano buone la moto era abbastanza agile e precisa aveva addirittura più cavalli poi nel corso della stagione un po è stata ridimensionata io credo che la suzuki complessivamente sia meglio della yamaha sia stata meglio della yamaha nel 2019 e che il limite siano stati un po i piloti l'ins purtroppo come ho detto in un altro sondaggio troppo altalenante però la moto è molto competitiva quindi secondo me è una buonissima moto quello che forse manca da suzuki ma sarete voi a decidere qual è la migliore moto dell'anno è un avantreno che non è così solido e che come abbiamo detto spesso l'inge ricorda sempre mette un po di difficoltà perché a differenza di yamaha tu non puoi contare tanto sul feeling sul davanti sì sì questa è una cosa che sottolineano anche i piloti ha detto spesso giulio bernardelli quindi ci fidiamo di loro e poi c'è ducati allora ducati chiude la classifica costruttore al terzo posto con la bellezza di 108 punti di distacco da dall'abbinata marca e sonda insomma ci si aspettava di più sicuramente ha un po deluso quest'anno però rimane il fatto che ha vinto due gare e tre gare col petrux ed è arrivato comunque nella classifica piloti al secondo posto per la terza volta conseguenza tra l'altro è l'unica moto che ha vinto con due piloti differenti anche mentre honda yamaha e suzuki hanno vinto con un solo pilota la ducati ha vinto con due piloti differenti quindi questo è da sottolineare anche la ducati io credo che sia difficile da giudicare perché se la si guarda in rettilineo nelle piste dove può esaltare il motore dc è nettamente la migliore perché sembra avere un vantaggio in accelerazione per potenza nel complesso io credo che invece quest'anno abbia dimostrato più limiti rispetto al passato e quindi insomma è da valutare questa valutare perché comunque appunto il pacchetto è da giudicare nel suo complesso quando parliamo soltanto della moto ciascuno di noi potrebbe a quel punto pensare sono i piloti che mi hanno deluso ma la moto è piaciuta molto dopo tutto a favore di ducati c'è anche un miller che a fine stagione soprattutto ha fatto vedere delle belle cose sì sì allora io dico che in ducati c'è sempre un po il pensiero che con un altro pilota si sarebbe vinto questa è un po' hanno dimostrato che non è così perché a fianco di dovizioso sono arrivati tantissimi piloti e dovizioso è sempre stato il migliore anche di lorenzo e quindi insomma però ognuno la giudica come adesso vedremo vedremo anche perché si parla di vignale si parla di quartararo si parla beh naturalmente per il 2021 insomma i discorsi sono aperti limitiamoci a questa a questo sondaggio qual è stata la migliore moto del 2019 a voi il voto grazie zam ciao nico ciao a tutti alla prossima ciao